Nelle favole si parla di desideri e nella fiaba le mille e una notte c'è addirittura un genio che li realizza. Vediamo il filmato. La bella Jasmine si trova al mercato per soddisfare un suo desiderio. Ho voglia di qualcosa ma non so esattamente cosa. Donne, è arrivato l'aladino! Arruota coltelli, forchette, arrotola tappeti! Svuota cantine, donne, è arrivato l'aladino! Mamma mia che bello! È bello il tappeto, questo è persiano. Sì, sì, è bello il tappeto ma non intendevo questo. Senti, io sono appena uscita di casa che avevo una voglia impellente. Adesso ti ho visto e so esattamente cosa voglio. Devi svuotare la cantina? No, no, ma che cantina! Senti, io sono Jasmine, sono la principessa e vivo nella torre più importante di Baghdad. Piacere, io sono aladino e anche io abito in una torre. Ah, che torre? La torre annunziata. Guarda, senti aladino, a me non interessa, per me puoi parlare anche in arabo. Però la cosa importante è che tu esadisca tutti i miei desideri. Sciocca! Sciocca! Sei sciocca! Per esaudire i desideri devi chiamare il genio della lampada! Mamma mia! Scirea la lampada, scirea! Scireo! Scirea, scirea! Ma die, ma die, ma die, suona a Cittofana! Die! E favore, legge la pallona! Genio! Da scendere? Eh sì! Sono il genio Izzo che realizza ogni tuo sfizio! Che non sfizio, che non sfizio, che non sfizio, io lo realizzo! Eccomi qua! È una prima zingara questa! Ma che te hai visto un gatto! Ma che te hai visto! Ma ho avuto un drago! Ok! Il genio Izzo con la zella! Senti genio, io vorrei un uomo bello, intelligente, colto, ricco! Vabbè che sei sceme! Io realizzo i sfizio, non faccio il miracolo! Vi spiegaglielo tu! Vabbè, allora solamente è bello e ricco! È bello e ricco! Chi legge è bello e ricco si può fare! Si può fare! Allora chiudi gli occhi! Adesso il genio Izzo che realizza! Io realizzo il tuo sfizio! Mo realizzo il tuo sfizio! Sfizio, io lo sfizio! Ricco e bello! Ricco e povero! Ricco e povero! Ricco e bello! Ricco e bello! Ma che succede? Genio, che succede? Non ho genio! Ma non sei un genio! Tu sei un genio! Dai! Perché poi ti chiamano genio? Dai! 3 per 3! 3 per 3! Ma che ne sacco! Andiamo avanti! Andiamo avanti! Scusa, ma che genio sei? Io sono il genio Izzo! Io gli ho visto ogni tuo sfizio! Tieno sfizio! Tieno sfizio, io lo realizzo! Ma poi scusa, questa lampada! Guarda, ma hai vista che lampada è? Questa è una grande lampada alloggia! A risparmio energetico! Che ha fatto? Principessa, se la vuoi, a te 20 euro! È modesta, è modesta! Ma che ammettia è? Ma voi avete visto ragazzi? Io sono la principessa! Non ci fessa! Non ci fessa un pisello! Di quelle mano! Ha sbagliato la fama! No, no, no! Dovete esaminire i miei desideri! Forza! Allora, va bene! Allora, io sono il genio Izzo che realizza ogni sfizio! Ah, io lo sfizio, ma lo sfizio lo realizza! Che ha già fatto? Allora, voglio salire su un tappeto con Aladino e volare! Voglio, eh? Un tappeto? Un tappeto! Adesso il genio fa apparire il tappeto! La magia! La magia, faccia la magia! Faccia la magia! Questa è la magia! Ecco, io, 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 1500 euro! Ma già ci stava il tappeto! Salite, mandate, mandate! Vai, fammi volare, fammi volare! Volete volare? Sì! Sicuro? Sì! Attacca me! Volate! Oh, oh! C'è no! C'è no! Io non intendevo la canzone! Io intendevo volare, per davvero! Tu stai volando e non ci sei reso conto! I di testei è stato realizzato! Ma passa la casa e paga! Oh, ma che paga è pago! Ma chi paga? Ragiona, ragiona! Ma voi, seppure fosse, seppure fosse, quant'è? Vindeon! Mortico, mortico! Mandate via! Mandate via! 10 a 10! 10 a 10! Non è arrivato! Non è arrivato! Ma vai via! Ma vai via! Ma vai via!